Ciao, io sono Liv, ed oggi vi racconterò la mia avventura. Un giorno una nave abbrudò nel mio villaggio, portando una malattia mortale. Dopo pochi giorni tutti morirono. Carlo il Vecchio mi consigliò di scappare. Prendi una canoa e naviga verso nord. Così sono partito, vivendo tantissime avventure. Incontrando orsi affamati. Conoscendo le orche. Diventando amico dei delfini. Navigando sempre verso nord.